Di Natskammakka, l'io nel noi. Girate l'io verso il noi, ma ancora un io. Niente catena, nessun vero legame, nessun vero nodo. Liberi, chiedete perché, girate in, trovate in questo io il noi in tutti i vostri voi, come me. Girando a sinistra, vorticate verso confini più lontani le province degli ultimi a mangiare, a dormire, ad avere, gli antigruppo lì in fondo. Ciascuno trovi la risposta propria, se a sinistra, la mia se a sinistra, la nostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.